E' giovedì 26, una giornata all'insegna dell'ecologia e dell'accoglienza. A Campobasso gli scout hanno organizzato un evento per avvicinare i cittadini alle buone pratiche di cittadinanza attiva. Sentiamo. Fare chiasso ed essere disturbatori scomodi ma creativi e positivi. E' questo lo spirito con cui il gruppo scout Campobasso 5 intende dare il suo contributo all'ambiente e all'accoglienza. Giovedì 26, all'auditorium ex Gil di Campobasso, dalle ore 20, i ragazzi daranno il via all'evento Carpe Diem, Migliora Te Stesso, Cambia il Mondo, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sui temi dell'ecologia, dello sviluppo sostenibile e dell'immigrazione. Rendere coscienti i molisani su argomenti ormai centrali nelle principali agende politiche nazionali ed internazionali, ma anche spronarli alla cittadinanza attiva, così che anche loro possano dare un contributo, insieme alle associazioni e alle amministrazioni locali, per l'attuazione delle buone pratiche ecologiche e dell'ospitalità. Quando le istituzioni si aprono ai movimenti, ma soprattutto ai giovani, io credo che sia sempre una cosa bella. Gli scout contano circa oltre 40 milioni di associati in tutto il mondo, è uno dei movimenti più grandi che ci sono a livello mondiale, nel rispetto dell'ambiente, dei rapporti umani e dei rapporti dell'accoglienza che loro fanno della loro vita quotidiana. Siamo veramente soddisfatti e sono convinto che il 26 sarà una giornata bella per tutti i ragazzi e tutti gli scout della nostra regione. Quello che vogliamo fare con questo evento del 26 è far capire ai giovani quanto è importante essere attenti a quello che ci circonda, sia a livello umano, quindi accogliere l'altro, così come è importante informarsi del problema ambientale che c'è adesso in questo momento storico. Ambiente accoglienza è perché stiamo vivendo dei momenti noti a tutti a livello nazionale. Noi vogliamo con questi due temi portare a conoscenza la cittadinanza e i nostri fratelli di quanto importante sia mantenere il mondo pulito, fruibile per tutti e soprattutto aprire le porte a persone che hanno la sfortuna di non essere nati dalla parte migliore del mondo. Quanto sono importanti le pratiche di cittadinanza attiva per la salvaguardia dell'ambiente? Noi le riteniamo importantissime, anche perché senza queste pratiche della cittadinanza attiva nessuno conoscerebbe bene le cose. Quindi le pratiche di cittadinanza attiva non solo vanno divulgate, ma dovrebbero essere anche messe in pratica da un po' da tutti per far sì che questo mondo resti migliore di come lo abbiamo trovato.